Colato, in surplesso, in nonchalance, Raffaeleao, tra il lusco e il brusco come si dice a Milano, passateci questa espressione gergale, questa espressione dialettale, tra il lusco e il brusco, Raffaeleao, salta l'uomo e fa Assis per il gol del 2-0 del Milan. Eccolo Borini, incrocia bene, in scivolata, da destra verso il secondo palo, quello lungo alla sinistra di Milano.